Ah, tesoro, fai fatica ad ambientarti alle superiori? Direi che faccio fatica ad ambientarmi sulla Terra. Tu lo sai che spaventerai qualcuno a scuola con la tua intelligenza, non è vero? O forse accetteranno la mia genialità e mi eleggeranno leader. Sì, Sheldon. In base al codice d'abbigliamento, i suoi capelli sono lunghi. Lui indossa indumenti sportivi al di fuori della zona preposta. E la sua camicetta è trasparente, il che vuol dire che si vede reggiseno. Forza Lupi. Cosa? Sei una cheerleader e con Forza Lupi sto avviando una conversazione su un tema che ti interessa. Oh, sei uno di quei bambini con bisogni speciali. Mia madre dice che sono speciale. Ti va di diventare amici? Eh, sinceramente non credo. Ne sei sicura? E se ti dicessi che apprezzo il tuo trucco così audace? Che c'è? Inoltre, in violazione del suddetto codice pagina 48 articolo 5 sezione B, lei professoressa ha i baffi. Quando torniamo, ti prendo a calci nelle palline. Non puoi, non sono ancora scese. Mamma, posso sapere quando mi scenderanno i testicoli? Signorina McElroy? Che c'è? Mi chiedo se ha letto il libro che ci ha segnato, io sì? Venti giri! Cooper? Se lei ci chiede di correre, non crede che dovrebbe darci l'esempio? Quindi siamo venuti a Medford e abbiamo aperto un discount. I miei lavorano 16 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e guadagnano pochissimo. Questa era deprimente. Bene, ecco Sheldon, se prendi il raffreddore o persino l'influenza, beh, non è la fine del mondo. Per mezzo milione di americani l'epidemia del 1918 è stata la fine del mondo. Davvero? In India morirono i 17 milioni. Il filosofo cinese Chuan Tzu riteneva possibile, beh, non sapere niente, perché forse era solo una farfalla che sognava di essere un filosofo. Sì. Non era una farfalla. E tu come lo sai? I neuroni del cervello della farfalla non possono generare un sogno complesso. E poi lei ha detto il filosofo Chuan Tzu, non la farfalla Chuan Tzu. E il vincitore della fiera della scienza della Medford High School è Chuan Loodlo. Wow! Volete scherzare, non è vero? Sheldon. Siete impazziti! Ehi, no. Va bene. State premiando la mediocrità! Stai scherzando! La mediocrità! La mediocrità! Lei come sta, signora? Da quando ti interessa? Gli anziani vanno rispettati, l'ha detto mio padre. Quanti anni pensi che abbia? Mio padre ha detto anche che se una donna me lo chiede è una trappola. Ah, uomo saggio. Ma direi 53. Missy, io vorrei darti un consiglio sulla scuola media, ma sono un genio e l'ho saltata. Arriva alle superiori e ne parliamo. Ti ho preso una cosa per aiutarti a superare la paura degli animali. Una pistola narcotizzante? Un pesciolino. Un pesciolino. Perché? Beh, perché magari con uno piccolo all'inizio è più facile. Guarda, è così carino. Sembra che non gli importi niente di me. Mi piace. Come vuoi chiamarlo? Pesce. Pesce? Non sono pronto ad affezionarmi. Sheldon, gioco e insegno football da tutta la vita. Quei calcoli non sono corretti. Davvero? Aspetta. No, sono giusti. Sari non si fa a tenere. 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 Grazie a tutti